Si è tornati a parlare del lupo a Villa Albertini di Arbizzano, il tutto grazie alla presentazione del libro Dieci anni con i lupi dei Monti Lessini. Nell'ambito delle iniziative culturali dell'assessorato alla cultura di Negrar di Valpolicella con l'Università del Tempo Libero a Villa Albertini di Arbizzano è stato presentato il libro fotografico Dieci anni con i lupi dei Monti Lessini, scritto da Silvano Paiola. Il libro, edito da Vivi Dolomiti, vede il patrocinio della Lipu poiché segnala il tema dell'importanza del lupo come garante della biodiversità. Come scrive l'autore, si tratta di un viaggio alla scoperta di creature che vagano nella notte, che si muovono guardinghe fra i boschi, cercate con discrezione entrando a far parte del loro mondo in un assordante silenzio. Lupo, la cui stessa esistenza è messa in pericolo da una recente risoluzione del Parlamento europeo con la quale è stato chiesto di verificare la possibilità di un ridimensionamento dello stato di tutela a livello comunitario contro gli attacchi dei grandi carnivori. Insomma, una pacifica convivenza tra uomini e lupi è ancora troppo lontana. L'arrivo del lupo in Lessini ha fatto sì che iniziassi a cercarlo, a cercare di trovarlo, di vederlo, per fotografarlo e documentarne la presenza. Purtroppo il lupo, sempre per mano dell'uomo, era sparito da tante zone d'Italia e quindi ci siamo disabituati alla sua presenza. Per cui il ritorno ci ha un po' colti di sorpresa. Ovviamente adesso c'è l'impatto del ritorno, senza nascondere il fatto che ovviamente dei disagi li porta insomma con sé.